Continua il virtuoso percorso tracciato nelle prime due giornate di campionato dall'Albaverde Caltanissetta. Contro il pedale, infatti, la squadra nissena, nella terza giornata di andata del girone M di Serie B2 Vole Femminile, ha conquistato una netta vittoria per 3-0 lasciando alle avversarie solo 42 punti. Nella splendida cornice del Palacannizzaro, Spene e compagne non si sono concesse licenze, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. È stato vano il tentativo ospite nella parte iniziale del terzo set di opporsi ai costanti attacchi delle padrone di casa. Un match di totale dominio in cui si sottolinea la prova di Alessandria Angilletta, top scorer della gara per la prima volta in stagione in doppia cifra, seguita sul piano delle realizzazioni da Jennifer e D'Antoni, per cui la doppia cifra in questa prima fase del torneo è una dolce costante. Il servizio del pedale ha raramente messo in difficoltà la ricezione dell'Albaverde, con ottime percentuali di risposta della stessa Angilletta, di una reattiva a Ferrarini e del libero Tilaro in continua crescita di rendimento. Ordinare amministrazione invece per Noemi Spena, mentre il duo Angilletta d'Antoni è tutelato ancora una volta a Nicole Ferrarini, per consentirle di recuperare al meglio dall'infortunio che si trascina dalla scorsa stagione. Da sottolineare infine l'esordio della nissena Marta Zaffuto, premiata per il grande impegno mostrato durante gli allenamenti. Niente campo invece per Millia Pruti, bloccata per un fastidioso torcicollo e per Eleonora Porrovecchio, non entrata in campo a causa della conclusione anzitempo del match. Ora si attendono teste più probanti per misurare l'effettivo valore della formazione della presidentessa Oriana Mannella, a partire da sabato prossimo, quando l'Albaverde si recherà gioiosa Ionica per affrontare l'imbattuta Sensation che la segue in classifica ha solo una lunghezza di distanza. Questi intanto i risultati della terza giornata del campionato di Serie B2 volle femminile Girone M. Gioiosa Ionica, Fidel Storretta 3-2, Zafferane Ricina 3-0, Ardenz Comiso Stefanese 3-0, Albaverde Caltanissetta Planet 3-0, Cuscatania Alus 3-0, Crotone Region Reggio Calabria 3-0, Valle Saracena 3-0. Per una classifica che vede l'Albaverde prima in classifica con 9 punti, seguita dalla gioiosa Ionica 8, Zafferane, Crotone e Fidel Storretta 7, Cuscatania 6, Vallei 5, Saracena Comiso e Ricina e Stefanese 3, Region Reggio Calabria 2, chiudono a 0 punti Planet e Alus.